La battuta non vale, ma dovrete lanciare la conferma? La battuta non vale, ma dovrete lanciare la conferma? La battuta non vale, ma dovrete lanciare la conferma? La battuta non vale, ma dovrete lanciare la conferma? La battuta non vale, ma dovrete lanciare la conferma? La battuta non vale, ma dovrete lanciare la conferma? una cosa molto importante Sì Grazie a tutti. 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 Grazie 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 a tutti. No, 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 non andare in cazzata. No, 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 no. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.